Oggi siamo a Roma Termini all'interno dell'Innovation Hub, dove anche le pareti respirano innovazione. Ne parliamo con Massimo Bernardoni, co-founder di Air Light. Air Light è una pittura, una pittura tecnologica. Noi siamo riusciti a inserire all'interno di una semplice pittura murale, una serie di tecnologie che riescono a purificare l'aria dall'inquinamento, a eliminare batteri e virus, muffe, a togliere i cattivi odori e tutto questo aumentando il benessere abitativo delle nostre case, delle scuole e dei luoghi di lavoro. Air Light è stato applicato in tantissimi casi. Partiamo dall'Innovation Hub di Ferrovia dello Stato che ci ospita in questo momento a immobili abitativi, a industrie alimentari, a hotel, a garage, perché chiaramente lì c'è una concentrazione di inquinanti molto elevata e così via, passando soprattutto dal mondo sanitario che apprezza tantissimo la capacità di eliminare batteri e virus dalle superfici. Air Light, abbassando l'inquinamento dell'aria, riesce a limitare la tossicità degli elementi presenti in essa. Air Light ha anche una impronta di carbonio che è meno di un terzo rispetto alle altre pitture. Cosa vuol dire? Che l'immissione di anidride carbonica nel totale ciclo è meno di un terzo. Questo aiuta a mitigare i cambiamenti climatici e a far sì che le malattie respiratorie siano meno dannose.